Ischia Ischia Paravisa e gioventù Ischia Questo mare è sempre blu Questo cielo che non incanta Questo golf che non vanta Questo ottiene solo tu Sti bellezza sono vera Questo dicio fu rastiera Cascordano un po' giù Siamo ad Ischia, l'isola che aveva lasciato senza parole Totò In mezzo ad un golfo un pezzullo di terra che il principe Antonio De Curtis racconta come un paradiso Noi però le parole le useremo in questo nostro racconto Le useremo per parlare di libertà di stampa Della libertà di raccontare i fatti che accadono Lo faremo da qui, da Ischia Dove si incontrano ogni anno d'estate Personalità del mondo del giornalismo internazionale Politici, esponenti delle istituzioni Pensatori e naturalmente giornalisti Tanti giornalisti con la voglia di raccontare e la curiosità di capire Faremo un giro virtuale intorno ai temi che più interessano il mondo del giornalismo italiano e internazionale Lo faremo facendo un giro reale intorno all'isola di Ischia a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera In compagnia del comandante De Angelis che garantisce un'estate sicura a chi arriva qui Sì, ci troviamo infatti nel bel mezzo dell'operazione Mare Sicuro Che anche per quest'anno vede impegnata la Guardia Costiera di Ischia ma tutta la Guardia Costiera italiana È un'operazione che noi definiamo un po' trasversale Nel senso che si occupa di sicurezza della navigazione, sicurezza della balneazione Tutela della risorsa mare, nel senso proprio più ampio del termine Tutela della risorsa ittica e dell'ecosistema marino Ma lei sa che cos'è l'Isis? Certo Che cos'è? Personi pazze Allora, non è che conosco l'Isis veramente che cos'è Però so che sono Per fortuna Per fortuna non lo conosco Però sono persone comunque che sono gruppi di fanatici Personalmente sono gente che a me non piace Non ci vuole avere a che fare Non ci vuole avere proprio a che fare Abdelaziz, 24 anni, è la faccia di una organizzazione impegnata a raccontare l'Isis da RACA Perché hai deciso di fare questo lavoro e questa scelta che immagino sia stata una scelta comunque difficilissima? Alla cosa inizia con noi Quando è iniziata la rivoluzione in Siria abbiamo pensato che dovevamo fare qualcosa, cambiare in qualche modo la situazione E tutto si è sviluppato fino a che è arrivata l'Isis nella nostra città E allora non potevamo restare in silenzio Quindi decidemmo che dovevamo affrontarli, come avevamo affrontato il regime di Assad E in che modo volevamo cacciare il regime da ogni città della Siria Decidemmo che non ci saremmo fermati, avremmo continuato a combatterli Noi siamo contrari alle armi come soluzione e non troviamo migliore soluzione che combatterli online Sapevamo che questo era importante perché l'Isis ha un buon sistema mediatico di propaganda Quindi pensammo in questo modo avremmo potuto sconfiggere o contrastare la loro propaganda Abdel, io penso che la tua vita sia in pericolo, quantomeno lo sia stata Quanto tu senti questo rischio? Io vivo in Germania perché abbiamo perso degli amici in Turchia, non solo a Rakka Quindi il regime ha un lungo braccio e ha assassinato i nostri colleghi Per me, per gli altri amici, per le persone che lavorano con Rakka's Beans Lottery Silently Il pericolo c'è sempre Forse in ogni secondo, in qualsiasi attimo può succedere a chiunque di noi qualcosa Sappiamo che quello che facciamo non è facile ma si tratta della nostra città A Rakka ci sono più di un milione di civili, noi abbiamo deciso che vogliamo essere la loro forza Ministro Gentiloni, le do l'opportunità di fare una pagella del giornalismo italiano e anche internazionale nella trattazione che fa dell'Isis Molto difficile, direi che la cosa più importante è che il giornalismo internazionale e devo dire soprattutto negli ultimi tempi anche il giornalismo italiano ci racconta la realtà Abbiamo avuto moltissimi inviati in Siria, in Iraq, in Libia e credo che questo sia il compito forse più importante di tutti Dobbiamo farlo sempre di più anche in Italia, stiamo cominciando a farlo Dobbiamo avere cioè dai giornalisti una presa diretta di quello che succede nelle aree dove la minaccia terroristica è più forte Senta Ministro Gentiloni, quanto è utile individuare nelle grandi storie come appunto quella che si sta raccontando dell'Isis il male assoluto? Ci si può permettere il lusso di non dare la voce all'Isis? C'è chi si fa morire per l'Isis? È davvero l'uomo nero o lo dobbiamo in qualche modo raccontare anche con loro? Ma con loro io credo che ci siano pochi racconti da fare, d'altra parte i giornalisti che cercassero di far parlare degli esponenti, dei militanti dell'Isis nel 99% dei casi purtroppo farebbero una brutta fine Quindi non alimenterei troppe illusioni su questo Dobbiamo raccontare le cose come stanno Non è che devi far parlare i tagliagole per raccontare che in alcune città dell'Iraq o della Siria Daesh governa certo con il terrore ma anche con un qualche grado di consenso C'è una parte delle comunità sunnite che deriva da errori fatti in precedenza ma questo significa raccontare la verità, non far parlare gli assassini Racca, questa parola l'ha mai sentita? No, no, mai Racca sa dov'è? No Da Siria le dice qualcosa? Ah ma da quelle parti si ma fa paura Molta gente non sa neppure dove si trovi Racca però quanto è importante per voi raccontare quello che succede in Siria? Sì, prima abbiamo deciso di chiamare il nostro gruppo Racca has been slaughtered silently per una serie di motivi Racca è il nome della città, slaughtered, massacrare indica che violenze e atrocità sono consumate contro coloro che non possono parlare o ribellarsi Vengono massacrati silently, in silenzio, perché all'epoca nessuno sapeva cosa succedeva a Racca Per questo motivo abbiamo scelto questo nome, nessuno aveva sentito parlare di Racca Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro è stato difficile cercare di spiegare ma poi è diventato più facile Abbiamo iniziato ad avere molti contatti internazionali e cerchiamo di spiegare il più possibile di andare in giro nel mondo per raccontare le nostre storie e il fatto che lì ci sono dei civili Forse un giorno riusciremo a cambiare la situazione, forse riusciremo ad aiutare chi vive lì Probabilmente potremo aiutare i civili Ma lei la Turchia sa da che parte sta? Non ho capito Dov'è collocata diciamo nel mondo la Turchia? Che è Europa, Asia, dov'è? Non è Europa No Con che confina per esempio? Eh la geografia non è un mio La Siria sa dov'è la Siria? La Siria lei sa dov'è più o meno se gliela faccio vedere sulla cartina da che parte è? Da qua, da qua? La Siria è da questa altra parte Lato destro? Sì La sa più o meno anche individuare su, a nord o a sud? Siria, Siria, mi ha dato che ho gli occhiali per vedere però è più a sud Allora poi abbiamo l'Iran, l'Afghanistan Quindi da questa parte è qui Da questa parte è qui insomma La Siria è da questo lato È Europa o è Asia? È Asia La Turchia confina secondo lei con l'Italia? No, no, no La Siria confina con l'Italia? No E la Siria e la Turchia confinano? Sì Più o meno la Siria dov'è? Confina con l'Italia secondo lei o no? È un po' sì Non proprio confina però ci sarà qualcosa in mezzo tra la Siria e l'Italia Dov'è la Siria? Lei sa più o meno indicarmela da che parte sta? No questa parte qui Qui? No spesso dove l'Italia no è qui Vicino alla Libia La Siria vicino alla Libia, la Turchia? Mi prendo in preparata Vicino all'Italia? No, lontano Non confina con l'Italia? No, non confino Ma cosa dici? Posso chiederti come immagini il tuo futuro e come immagini il futuro della Siria? Adesso stiamo facendo del nostro meglio per fare qualcosa per la nostra nazione anche se ora siamo qui Abbiamo ancora amici e colleghi che vivono nelle città Stiamo facendo tutto quello che possiamo per portare un cambiamento e ritornare nella nostra nazione quindi questa situazione è temporanea per noi e non vorremmo dover restare qui per sempre Stiamo lavorando per poter tornare a casa nostra Can Dundar Can Dundar sa chi è? Can Dundar È una città o un nome proprio? No, Can Dundar non so onestamente che cos'è Potrebbe essere un'area Si sa chi è Can Dundar, signora? Can Dundar No, non lo so Non lo so Può darsi però che abbia dimenticato il nome È un giornalista turco? Allora sì Can Dundar, direttore del quotidiano turco Jumuriet È importante averla qui ad Ischia per il premio per i diritti umani al premio internazionale di Ischia Quello che vorremmo sapere da lei, visto anche il suo vissuto, vista la sua esperienza, vista la condanna Visti anche i giorni di carcere che lei appunto ha passato in prigione Come si fa a conservare la voglia di raccontare in ogni caso? È molto importante per me essere qui a ricevere questo premio prestigioso Due mesi fa soltanto ero in prigione a Istanbul in una cella di isolamento da solo Quindi sapere che vi sono delle persone che si interessano alla libertà di stampa in Turchia e alla sorte dei giornalisti in prigione è molto incoraggiante Ed è questa la fonte del coraggio, dell'entusiasmo È questo che mi dà la forza di andare avanti a continuare a fare il mio lavoro e combattere contro l'oppressione Come si fa praticamente, nonostante tutte le cose che hai passato insieme con la redazione a perseverare nel dovere, nel diritto di raccontare ad ogni costo? Mi creda, trascorriamo metà del tempo nelle sale di tribunale, nelle udienze invece che nelle redazioni C'è la censura, c'è l'oppressione da parte del governo ma anche della popolazione Non è facile davvero fare il giornalista oggi in Turchia D'altro canto, voglio dire, grazie al cielo sono un giornalista È una fortuna, è davvero un momento importante, fantastico per fare il giornalista Bisogna fare il proprio lavoro, combattere per la libertà del proprio paese Il giornalismo è più efficace che mai ed è più in forma che mai in Turchia Lei lo sa invece che in Turchia addirittura vengono arrestati se raccontano le cose? Figurati, sì sì, lo so E la Turchia dovrebbe essere uno dei partner che entrano in Europa, cioè io sono indignata Ma lei lo sa che in giro per il mondo, per esempio in paesi come la Turchia, i giornalisti vengono arrestati se fanno il proprio mestiere? Mi dispiace La fa arrabbiare questa cosa? Senz'altro, perché voi fate il vostro lavoro, che è importante, far sapere le cose alle persone, al popolo, alle nazioni E non lo fanno sempre fare? No, magari vengono pure ammazzati Ma quello che succede in Turchia, in Siria, lei interessa o no? Seguo, allora non seguo, seguo giornalmente, con tutti i giorni, prima mattina appena mi alzo Gian, come si spiega anche dal tuo punto di vista la scelta che è stata fatta per esempio negli ultimi giorni di non mostrare dei video che sono delle testimonianze importanti Intendo quelli dopo l'attentato che c'è stato all'aeroporto internazionale È stata un po' una copertura, un tentativo di copertura Non volevano mostrare la Turchia in una posizione di debolezza Dopo tutti gli attentati degli ultimi due anni il governo turco comincia a mandare la censura anche prima di mandare le ambulanze nei luoghi degli attentati La censura ormai è diventata la norma purtroppo, ecco perché dobbiamo anche fare i conti con la censura e portare avanti le nostre inchieste Per te il diritto di raccontare coincide anche con il dovere di raccontare tutto? Certo, è diventato un dovere, è come se lavorassimo come politici, reagiamo, prendiamo delle iniziative, tentiamo di ottenere più riforme democratiche da parte del governo e resistiamo all'oppressione del governo È un lavoro per noi ma è anche un dovere come cittadini, come padri, in quest'epoca dobbiamo combattere contro l'oppressione Altrimenti vi sarà l'islamofascismo in Turchia e non vogliamo che i nostri figli crescano in queste circostanze, in queste condizioni Secondo lei la libertà di informazione c'è o no? Relativa direi Cercano sempre di mantenere il carro per l'ascesa, detto in termini un pochettino Che significa mantenere il carro per l'ascesa? Il carro per l'ascesa vuol dire che mantengono i buoi a freno, nel senso che le informazioni, ritornando alla domanda di prima, sono sempre dimezzate Io non lo so se i giornalisti decidono di non pubblicare pur sapendo, non lo so, perché non è possibile capirlo Si hanno anche troppa libertà a volte Noi giornalisti troppa? Anche troppa a volte scrivete certe cose che non stanno nel cielo né in terra Voi dovete dare informazione, quando più potete, quello che potete, perché non potete dare tutti Come me la gestisco la vita se non sono informata? Tu credi che ovunque in Europa ci sia libertà di espressione, di raccontare le cose così come accadono? La libertà di stampa è la cosa più importante in ogni nazione, perché è la voce delle persone che non hanno voce È molto importante perché ci sono molti dittatori in questo mondo, molti presidenti che stanno cercando di mettere a tacere queste voci È anche importante estirpare la cattiveria e cercare di arrivare ad un mondo democratico Pio D'Emilia qui ad Ischia per ricevere il premio internazionale di giornalismo di Ischia appunto In oltre 30 anni di esperienza sei stato praticamente ovunque nel mondo Hai raccontato i fatti più grandi che sono capitati Gli ultimi due senza dubbio, il disastro nucleare alla centrale di Fukushima e poi la grande ondata di migranti in Europa Quello che voglio domandarti è quanto il dovere di raccontare prevede anche il rischio della vita? Ebbè una buona dose, si tratta di trovare il giusto equilibrio Quello che dico sempre è che noi giornalisti, noi inviati, insomma corrispondenti abbiamo diciamo una soglia del rischio un po' più alta rispetto agli altri Si tratta poi di decidere qual è il tuo limite e quello non ci possono essere regole Quello deve essere un mix di quello che senti tu, di quello che l'azienda per cui lavori ti consente e ti consiglia di fare E io penso che soprattutto nel caso di Fukushima molti colleghi sono stati costretti a rientrare secondo me esageratamente Per carità c'erano ottime motivazioni, nel mio caso che conoscevo il Giappone molto bene che ho vissuto tanti anni, conoscevo la lingua, sapevo come muovermi penso sarebbe stata una cosa molto disdicevole non poter raccontare in diretta un disastro anche pericoloso come quello Raccontare liberamente coincide con raccontare tutto? Quasi sempre sì, tranne in alcuni casi in cui per motivi di ordine pubblico o per esempio quando ci sono dei minori di mezzo Parliamoci chiaro, a livello politico sì, assolutamente sì Io non nasconderei mai un qualche cosa che potesse nuocere alle immagini di questo o quel politico Nella mia vita ho anche pagato per questa sincerità e questa inaffidabilità politica Per quanto riguarda invece altri casi, sono coinvolti dei minori oppure ci sono particolari esigenze istruttorie Anche lì non si possono scrivere delle regole assolute Bisogna scrivere delle regole però bisogna anche avere la capacità sia da parte del giornalista che della direzione di valutare caso per caso Ad un ragazzo turco che decidesse di fare il mestiere del giornalista, quale consiglio daresti oggi e dopo quello che tu hai passato? 30 anni fa quando cominciavo la mia carriera mi chiedevano se avessi talento per fare il giornalista Oggi quando mi avvicinano dei giovani che vogliono fare il giornalista io chiedo loro se sono abbastanza coraggiosi Perché questo è il cambiamento, io posso solo consigliare loro di essere coraggiosi Bisogna avere coraggio per fare i giornalisti, fare le domande giuste, scrivere gli articoli giusti Quindi essere coraggiosi per poter lottare contro l'oppressione, in bocca al lupo Good luck Thank you Tobias Piller, responsabile della stampa estera in Italia Se io ti chiedessi di dare una pagella, di fare una pagella della stampa italiana e il tema è libertà di stampa L'Italia... Che voti daresti? Ha un voto medio, forse un po' medio alto Che verso il 7? Sì diciamo in questa regione, ma non il 10 diciamo Tutti i paesi hanno qualcosa dove si può eccepire Certo l'Italia ha tanti editori che hanno altri interessi Per dire così L'Italia ha tanta influenza nelle televisioni Mi sembra che sia adesso ancora crescendo questa influenza politica Proprio del governo Che sta prendendo più potere nella RAI Fa molto di più la stampa italiana in Italia Anziché per esempio il governo tedesco Deve molto più subire In Germania deve subire i commenti molto cattivi Basati sui fatti Ma comunque commenti taglienti Anche di un giornale dello stesso campo politico Ma anche i commenti e il reporting critico Dei media pubblici Luigi Conto, direttore dell'ANZ Oggi abbiamo la percezione Che possiamo avere tutte le informazioni che ci servono Accedendo al computer Su Twitter, su Facebook, in rete Allora io mi chiedo Se si va in questa direzione Perché un direttore domani dovrebbe consentire A un giornalista di andare nel posto Per raccontare quello che è successo E che sta succedendo Ma questo è proprio un punto centrale Del momento che stiamo vivendo Le persone, la gente, i nostri figli Ormai sono convinti che l'informazione Si trovi gratuitamente Ed è vero La diffusione della rete I social consentono di leggere Di sapere le notizie senza pagare Ma non dobbiamo dimenticarci Che dietro ogni notizia c'è un costo C'è un costo dell'inviato C'è un costo della redazione C'è un costo di formazione Di cultura I social non sono nemici dell'informazione Anzi sono una grande occasione Di democrazia e di libertà Però per decifrare una notizia Per capirla Per divulgarla Per certificarla C'è bisogno di professionisti Che non è necessario Che siano soltanto giornalisti Possono essere degli esperti Però questo è un grande tema È un tema che la società si deve porre Se noi pensiamo Che le notizie sono gratuite Alla fine le notizie non varranno più nulla E si potrà scrivere tutto Io credo che il nostro ruolo In questo momento Noi delle agenzie dell'ANSA Come per voi di Sky Come per chi scrive sui giornali Sia proprio quello di dare Valore aggiunto Con la professionalità Con la preparazione Con l'abnegazione E anche con la capacità Di fare investimenti Per portare le persone A scattare una fotografia A girare un video O a leggere un documento A sentire O a seguire un grande evento Di persona Perché non è la stessa cosa Poi c'è il giornalismo dei cittadini Assolutamente Dobbiamo saperlo utilizzare Può essere un nostro Importante alleato Per zone non accessibili Per fatti che avvengono improvvisamente Dove tu non sei stato Ma è un'altra cosa Certo La grande sfida adesso È anche la indipendenza economica Dei media E lì La sfida è Far veramente vedere La qualità Convincere la qualità I lettori Cioè deve valer la pena Spendere qualcosa Qualche euro Per leggere Spendere qualcosa In internet Per leggere Per vedere Bisogna capire Che avere Il giornalismo di qualità Spendere E poi Hai qualcosa di meglio E qualcosa Che non ha bisogno Di strillare Quanto è corretta Diciamo L'uguaglianza Informazione di qualità Informazione a pagamento Beh c'è Non c'è dubbio L'informazione ha dei costi Io farei un'uguaglianza Anche con informazione Di qualità E libertà Del cittadino Per la possibilità Di crearsi una coscienza E questo deve essere Naturalmente garantito Da investimenti Da editori indipendenti Da editori che Non abbiano conflitti Di interesse Con i poteri forti Però questo Ha un costo Lo ha in tutto il mondo Chiaramente Per i grandi mercati Per chi è in lingua Anglosassone Per i grandi network Americani E anglosassoni È un po' più semplice Perché hanno un mercato Più vasto Per noi Noi in Italia Stiamo soffrendo Una situazione di crisi Non dobbiamo mollare Però dobbiamo essere Tutti consapevoli Dobbiamo cominciare a dirlo Nelle scuole Ai nostri figli E ai cittadini in generale Che bisogna pagare Un costo dell'informazione È un costo Che va a beneficio di tutti E come la sanità Informazione è un bene pubblico Grazie a tutti Grazie a tutti